Ok ragazzi, quando siete un ultracattolico ipermegafotonico come l'onorevole Adinolfi e passate dal fare affermazioni di questo tipo qui Sono criminali? Perché qui sulla litopatia passa poi il criterio che giocare è male Allora io vorrei che passasse, vorrei che ci fosse anche un intendimento chiaro di quest'aula Che giocare d'azzardo è male, che essere così cretini da buttare il denaro dentro un caminetto acceso È una follia dal punto di vista delle proprie finanze personali Badate bene, con una curva ascendente di questa spesa ancora più aggravata in fase di crisi del nostro paese Ai tornei di poker di quest'altro tipo qua Peraltro utilizzando la vostra pagina Facebook ufficiale Per sponsorizzare un'iniziativa chiamata scommessa collettiva Finalizzata a raccogliere soldi dai tuoi seguaci Che cosa potrà mai andare storto? Iniziamo col dire che questo lavoro di ricerca e di approfondimento è stato in gran parte Anzi, ma che dico in gran parte, totalmente o quasi svolto dai ragazzi del Cerbero Da Palle Uomo, da White Half e naturalmente da Germano Milite Io stesso questa sera sarò ospite di White Half sul suo canale Twitch Vi lascio il link qui sotto Mi raccomando, dopo le 9.30 dateci un'occhia Fatte le doverose precisazioni e ringraziamenti, entriamo nel merito della questione Diversi iscritti hanno notato che l'onorevole Adinolfi in realtà sia solito giocare a poker E come se non bastasse ha organizzato un qualcosa chiamato scommessa collettiva E naturalmente mi hanno chiesto di esprimere il mio parere rispetto a questa iniziativa Che può e deve essere valutata almeno sotto due profili diversi Il primo è quello della legalità e il secondo quello dell'opportunità Inteso come sostenibilità economica dell'iniziativa stessa Ma procediamo con ordine L'aspetto più appariscente della questione consiste nel fatto che l'onorevole Adinolfi in Parlamento Si è sempre detto contrario al gioco d'azzardo Ma poi nella vita reale sembra essere un vero e proprio campione di poker E pare che abbia vinto anche più di un torneo negli ultimi 7-8 anni E lui risolve quest'apparente contraddizione affermando anche abbastanza stizzito Che il poker non è mica un gioco d'azzardo Il poker secondo Adinolfi è un gioco di abilità Al pari degli scacchi di Super Mario Bros La sua anima quindi è salva e si trova in un posto sicuro Tanto quanto il denaro che sicuramente vorrete conferire alla sua iniziativa Scommessa collettiva E qui arriviamo al capitolo dolente Ovvero alla raccolta di capitali da investire in scommesse o giochi di abilità Più scommesse a giudicare dalla descrizione di scommessa collettiva Che rilascia proprio Adinolfi in persona In pratica Adinolfi vi offre la grande e inimitabile possibilità Di partecipare alle scommesse sue ed ai suoi amici Dovete soltanto fargli un bonifico da 3.000 o 10.000 euro E poi ci penserà lui a far fruttare il vostro piccolo capitale E non solo Adinolfi vi garantisce anche un guadagno minimo Se gli date 3.000 euro lui vi garantirà il 3% annuale Con dei rimborsi trimestrali o quadrimestrali E se viceversa gli sganciate 10.000 euro per la cosiddetta quota VIP Lui vi garantirà un ritorno annuale del 40% Oltre naturalmente al capitale investito Queste condizioni di contratto vi vengono trasmesse Mediante Whatsapp o email E voi il versamento dovete farlo sul conto corrente personale di Adinolfi E dovreste ben comprendere che con questo modus operandi Si va incontro ad almeno due tipi diversi di potenziali problemi giuridici In primo luogo il decreto dignità Divenuto legge nel 2018 Vieta assolutamente la pubblicità del gioco d'azzardo Mentre invece Adinolfi parla liberamente della sua iniziativa Iniziativa che peraltro ha come scopo quello di raccogliere capitali Per poi fare scommesse che secondo lui sono sicure e certamente remunerative Ora sinceramente io non sono in grado di dirvi al 100% e con tutta la sicurezza del pianeta Se questo tipo di attività sia illegale oppure no E se richiedere il versamento di quote a persone che non sempre si conoscono su Facebook Possa comportare una violazione di legge oppure no Posso però dirvi che nel dubbio io manterrei un atteggiamento prudente Ed eviterei di parlare di queste cose su Facebook Tanto più se tu accetti quote come viene riferito da Adinolfi Principalmente e quasi esclusivamente soltanto da soci che già stanno operando Con la tua piattaforma, associazione o quello che è La seconda perplessità consiste nel fatto che per l'appunto questa associazione è un'associazione di fatto Non ha un conto corrente e tutti interfacci direttamente e probabilmente esclusivamente con Mario Adinolfi Tra l'altro pare che al momento di effettuare il versamento L'onorevole Mario Adinolfi suggerisca di qualificare il versamento come versamento Sostanzialmente suggerisce di non inserire una causale E questo può causare una pericolosa confusione Perché tutto il tuo patrimonio e il tuo investimento finisce sul conto corrente di Adinolfi Immaginatevi che cosa succede se per un motivo qualsiasi Adinolfi subisce un pignoramento Poi magari, anzi probabilmente ha un'economia domestica solidissima Ma il punto consiste nel fatto che Adinolfi è anche un giornalista Se per ipotesi dovesse avere una disavventura giudiziaria e prendersi un'ammazzata sui denti Con tanto di dovere di rimborsare o risarcire una controparte ipotetica C'è il rischio che questa controparte possa appropriarsi del capitale che hai prestato Fra virgolette ad Adinolfi per poter fare le scommesse e guadagnarci qualcosa Sono soldi che sono sul suo conto corrente Auguri per il recupero Altra nota dolente consiste per l'appunto nel fatto che non esiste formalmente alcuna associazione Detto fra parentesi, associazioni di questo tipo potrebbero essere addirittura vietate dalla normativa Perché quando si parla di giochi di azzardo si parla di un ambiente regolamentato all'inverosibile Per cui non è da escludere che un'associazione in questo senso e in questi termini non si possa neanche costituire Il che dovrebbe suonare come un ulteriore campanello d'allarme E attenzione, non sto dicendo che l'onorevole Adinolfi stia facendo delle cose illegali Sto dicendo che farebbe meglio, a mio modesto parere, a mantenere un profilo molto più prudente Perché la normativa in tema di giochi d'azzardo, scommesse, ma anche giochi a premi È stata creata proprio per disincentivare la spesa nell'ambito del gioco d'azzardo, delle scommesse e dei giochi d'abilità Perché questa spesa spesso è l'anticamera della ludopatia Una cosa brutta e cattiva E quindi poco importa al legislatore che si tratti di una scommessa o di un gioco di abilità Il problema è che si tratta di un gioco che verosimilmente ti dà dipendenza e ti fa spendere dei soldi Poi, evidentemente, nonostante i diversi anni di attività Il problema sotto il profilo legale all'onorevole Adinolfi non si è mai presentato E potrebbe non presentarsi mai, eh? Legittimo, non c'è nulla di strano in questo Mi lascia invece estremamente perplesso il fatto che l'onorevole Adinolfi raccolga quote E abbia una preferenza per le quote da almeno 10.000 euro Quelle che lui chiama quote VIP Intendo dire, se questa associazione di amici, scommettitori, giocatori o quello che sono Esiste dal 2006-2007 E per 18 anni di seguito, come dice Adinolfi, non hanno mai perso Per quale motivo ti ritrovi ancora lì a chiedere a persone che conosci Ma anche a quelle che non conosci Di sottoscrivere delle quote Con un ritorno garantito del 40% sopra i 10.000 euro Ormai dovresti poter essere completamente autonomo Dovresti poter giocare slash commettere da solo E dovresti avere una ricchezza, non dico pari Ma almeno significativamente simile a quella che ha lasciato Silvio Berlusconi Mal che ti va, infatti, ogni due anni e qualche mese raddoppi il capitale E visto il livello di guadagno Potresti tranquillamente prendere dei prestiti in banca Per ripagare gli investimenti slash commesse Perché non lo fai? Ti piace il contatto con la gente? Resti umile per impostazione religiosa della vita? Io non lo so, ma questo aspetto sinceramente non mi convince A quest'ora l'onorevole Adinolfi dovrebbe farsi reggere le sue fette di pizza Da paperone e Rockefeller In secondo luogo trovo strano che lui o chiunque altro Possa aver trovato un metodo imbattibile E che questo metodo sia rimasto segreto per almeno 20 anni Intendo dire Soros ci va giù pesante con gli investimenti Se invece di affondare sterline e lire italiane Avesse potuto ottenere lo stesso successo E un ritorno del 40% minimo l'anno Semplicemente scommettendo su squadre di calcio Verosimilmente l'avrebbe già fatto E la stessa cosa potrebbe slash dovrebbe dirsi Per qualunque imprenditore di grandi dimensioni Perché devi scocciarti e rovinarti il fegato Nel mandare avanti una fabbrica Con tutte, ripeto, le complicazioni Il dolore e la burocrazia che questo comporta Quando potresti sportivamente piazzare scommesse dal tuo yacht Ancorato a Portofino E' forse un bias cognitivo Oppure è tecnicamente impossibile vincere sempre e comunque Intendo dire, da una parte puoi scegliere anche Tutte le scommesse più sicure del mondo Ma qualche imprevisto può sempre capitare Immaginatevi cosa succede, per esempio Se nella squadra data per favorita Si infortunano due o tre giocatori contemporaneamente Oltretutto, se fai scommesse pressoché sicure Il guadagno è davvero molto, ma molto basso In alcune situazioni potrebbero servirti anche 5, 6, 7, 10 vincite per poter ripagare una singola perdita E poi c'è il problema dell'assoluta mancanza di trasparenza Sostanzialmente Adinolfi chiede alle altre persone Di fare semplicemente un voto di fede nei suoi confronti Li girano il denaro e poi a ogni scadenza lo chiedono indietro E fino a quando va tutto bene Adinolfi ogni 3-4 mesi Rimborsa più o meno quello che deve rimborsare Invece il giorno in cui qualcosa andrà storto Beh, sarà molto, ma molto difficile Riuscire a recuperare il proprio denaro Certo, Adinolfi dice Fino ad oggi, dal 2006-2007 Non è mai accaduto nulla di male Anzi, abbiamo sempre guadagnato Vero, ma aver sempre guadagnato Non implica che riuscirai a farlo anche negli anni a venire E poi gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo Come ripeto, se c'è soltanto l'onorevole Adinolfi A proporre investimenti di questo tipo qui E i grandi miliardari Quelli che fanno realmente girare l'economia Stanno alla larga dal gioco d'azzardo Dalle scommesse O dai giochi d'abilità come il Texamers o il poker Qualche motivo ci sarà pure E poi ti resta il problema di riuscire a recuperare il tuo capitale Che, ricordo sommessamente Hai versato mediante bonifico Indicando come causale versamento Frase, o meglio, termine Che non significa assolutamente nulla È esattamente come dire che l'acqua è bagnata Io, insomma, da questa cosa qui Ci starei alla larga E voi? Fatemelo sapere, come sempre Scrivendo qualcosa qui sotto Detto per inciso Se vi piace il canale Ricordatevi di iscrivervi Attivare la campanellina Condividere i contenuti Con le persone che possono essere interessate E naturalmente Mettere il like d'ordinanza al video Se non lo farete Potreste trovarvi a pregare Nella chiesa del poker Senza avere la possibilità Di consultarvi con Adinolfi Come sempre Io vi ho avvisati Grazie di tutto per tutto E a presto